E' stato intercettato dalla Guardia di Finanza a Canosa di Puglia all'uscita del casello dall'autostrada 14 per un controllo, ma il suo nervosismo, manifestato sin da subito, ha insospettito i militari che hanno deciso di procedere ad un'ispezione perprofondita. Una volta aperto il bagagliaio del veicolo, ecco la scoperta. Sotto un'intercapedine erano nascosti due panetti di cocaina dal peso complessivo di oltre 2 kg. E' stato arrestato dalle Fiamme Gialle un albanese di 40 anni che viaggiava sull'autostrada adriatica a bordo di un'auto con targa italiana. L'uomo, con precedenti specifici, materia di stupefacenti, ha insospettito sin da subito i militari, decisivo per le Fiamme Gialle, il contributo ed il fiuto dei cani antidroga del gruppo pronto impiego di Bari. I due Segugi hanno puntato subito al vano posteriore dell'auto. Il quarantenne è stato condotto nel carcere di Foggia. La droga, l'autovettura per il trasporto e due smartphone rinvenuti nella disponibilità del trafficante sono stati sottoposti a sequestro. Sono in corso gli accertamenti per individuare il canale di approvvigionamento, nonché i destinatari della cocaina, che se spacciata nelle piazze pugliesi avrebbe fruttato oltre 300 mila euro.